Sogni un magazzino senza errori di picking? Che sveglio nel lavoro lo realizza con Gulliver. Gulliver è l'innovativo software per la logistica che ti permette di controllare e certificare le tue operazioni di magazzino. Come fa? Gulliver traccia il prodotto in tutti i passaggi e garantisce così la corretta movimentazione. La merce giusta, nel posto giusto e nella giusta quantità. Sempre! E gli incubi da spedizioni sbagliate? Passate anche quelli. Con Gulliver puoi creare una packing list in tempo reale così certifichi la tracciabilità fino all'uscita compresa la corretta locazione sul camion. Insomma, con Gulliver puoi dormire tranquillo perché il tuo lavoro è senza errori, garantito fino in fondo. Scopri gli innovativi vantaggi di Gulliver. Guarda gli altri video.